Filippo, ciao Giosuè, domanda fuori dal no contact, secondo te come possiamo noi uomini avere a che fare con donne di alto valore? Allora, innanzitutto Filippo io ti invito a prendere i tre pilastri all'attrazione, il mio corso, perché una domanda così denota il fatto che tu proprio quel corso non sai neanche l'esistenza, ok? Ok, inciso però, in quel corso io non spiego come trovare donne di alto valore, ma spiego come essere quella persona che una donna di alto valore vuole, perché questo è lo switch che devi fare, ok? Cioè, la domanda che mi fai fa intendere, fa capire che voi siete ancora incastrati in quell'idea che c'è un posto, un'applicazione, una cerchia sociale in cui esistono le donne di alto valore, ok? Le donne di alto valore, ragazzi, non esistono. Perché non esistono? Perché tu definisci una donna di alto valore, io definisco una donna di alto valore, ok? Abbiamo degli standard diversi, io magari più alti o più bassi, non lo so, è indifferente, però quello che cerco io, che lo so benissimo che cosa sto cercando, probabilmente è diverso da quello che cerchi tu. La domanda è, ma tu sai che cosa vuoi da una donna in modo che sia di alto valore? Capisci che questa domanda ti apre un mondo, ok? C'è stato una cosa, adesso ne han parlato, per farti capire l'esempio. E' uscito per, penso, questo mese la notizia, non mi ricordo, comunque c'è stato una persona, un rigattiere, ok? Che praticamente aveva un Picasso in casa da 50 anni e non lo sapeva, ok? Questo Picasso vale, adesso non so, c'è la notizia, l'ho trovata, adesso sì, posso anche trovarla. E' importante capire, sembra inutile, allora, valore, vediamo, valore, 6 milioni di euro. Ok, questo rigattiere qua aveva un Picasso da 6 milioni di euro. Provate a pensare la scena, ovviamente lui rigattiere, anni fa c'è la storia, è andata a trovarla, la moglie ha preso questa cosa, poi molto bello, hanno trovato la cornice, l'hanno messa in casa, hanno messo questo quadro in casa. Secondo te, tu, Filippo, vai a casa di questa persona qua? Magari riconosci un po' lo stile di Picasso, adesso non so se... Cosa fai? Fai la foto, poi vai su Google Immagini? Su Google Immagini non ci sarebbe quel quadro, perché? Perché lui è l'unica persona ad averlo in casa e non ha riconosciuto il valore. Ci siamo. Quindi è per forza un falso. Capite dove vi voglio portare? Adesso invece che ci sono le foto, ci sono le foto online, questo quadro è stato guotato, ok? E conosciamo la faccia di questo quadro. Quindi se ora vai su Google, conosci questo quadro perché è stato messo online e tutto il resto, ma prima no, ok? Quindi riconoscere un valore, se tu non sai che cosa... Ritornando alle donne, se tu non sai che cosa stai cercando, non puoi neanche trovare niente, ok? Quindi se tu non definisci una donna di alto valore, quindi esci dalla mentalità del là c'è un posto, là c'è un locale in cui ci saranno donne di alto valore, probabilmente non troverai niente. Anche perché non sai che cosa stai andando a cercare. Il tuo sare, il sistema di attivazione reticolare, non ti porta a individuare la donna di alto valore, anzi ti porta a vedere soltanto donne che sono belle, bellissime, o comunque vengono paragonate a quelle che ti piacevano in passato. Quindi il primo step da fare, innanzitutto, è prendersi i tre pilastri dell'attrazione per diventare la persona che, come ho detto prima, le donne di alto valore vogliono. Se una donna di alto valore, perché c'è il principio di pergamia e tutto il resto, vuole stare per forza con uomini di alto valore, capisci che tu non puoi essere un uomo di basso valore che guarda soltanto la bellezza, ok? Poi ci sono dei posti in cui trovare queste donne, come ho detto prima, no, guarda, soltanto questa settimana io sono andato all'estero, ragazzi, veramente, anche questa cosa, piccolo inciso, viaggiate, girate all'estero, perché probabilmente Filippo adesso è in quello stato in cui, magari seguendo i miei video, comincia ad alzare il suo livello, ok? A molti miei studenti viene, molti lamentano questo fatto qua. Guarda, Giosuè, da quando ascolti i tuoi video, quando ho cominciato a capire i meccanismi, l'attrazione, i principi psicologi e tutto il resto, grande, 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 ho capito gli errori che ho fatto in passato, voglio migliorarmi, mi sono migliorato, adesso sto uscendo con donne che non mi dicono niente. Verissimo, tutti quanti, ovviamente tutti quanti quelli che vogliono migliorarsi, che hanno capito, che hanno fatto degli errori in passato, vogliono diventare appunto degli uomini di alto valore, non si accontentano più, di conseguenza magari escono con una che gli fa dei discorsi del cazzo davanti a un aperitivo, ok? Io i ragazzi con cui faccio i programmi di coaching, che magari sono venuti da me perché volevano innanzitutto recuperare una relazione, oppure lei se n'è andata, ha fatto ghosting, tutto il resto, abbiamo lavorato su il rifocalizzarci, cioè rifocalizzare lui su di sé, perché la verità è che quando una donna se ne va, ragazzi, dovete ammettere che avete fallito. Però la frase che dovete mettervi in testa, piantarvi in questo momento è io non fallisco, io imparo, ok? Perché se voi fallite, dite che sono un fallito, no, io ho fallito con quella donna e ho capito, adesso, grazie Giosuè, grazie alla trazione X, mi metto in quelle condizioni di capire gli errori che ho fatto, gli errori che ho fatto per far spegnere la trazione a quella donna. Quindi, se una donna perde attrazione, se una donna se ne va, quello è semplicemente, da ora in avanti, ragazzi, un consiglio che vi do veramente così, tatuatevi questo consiglio. Se voi avete fallito con una donna, se una donna se ne è andata, ok, è una grandissima occasione di miglioramento, perché purtroppo, purtroppo vuol dire che non siete voi stati all'altezza. E adesso tutti quanti, no, però lei è una troia, se ne è andata, con l'altra è tornato l'ex, ha preferito l'ex. Ottimo! Vuol dire, per forza di cose, che l'ex era migliore di voi. Lui è tornato, l'ha fatta rinnamorare, giusto così, ok? Voi ve ne state nel vostro... Non dico scantinato, ok? Prendete la vostra strada, la strada del miglioramento. Dite, ok, probabilmente lui era migliore di me. Lei però cercava lui. Per lei, e ritorniamo alla domanda iniziale, per lei lui era un uomo di alto valore, ok? E se per lei lui è un uomo di alto valore e lui sta con lei, vuol dire che per lui, lei è una donna di alto valore. Ecco, trovata Filippo la donna di alto valore. Benissimo! Per voi, quella donna lì è di alto valore? No, perché è tornata con l'ex, provate a pensarci un secondo. Ma non sono cazzi vostri, ok? Non è che dovete paragonarvi con lei, non c'entra niente questa cosa. Guardate a voi, guardate il fatto che probabilmente la donna con cui stavate uscendo, la donna con cui vi siete messi, la donna che stavate frequentando, ha preferito un altro. E vuol dire questo, che lui era un uomo di alto valore per lei, ok? Vi ha messo su una bilancia, te, l'altro e l'altro ancora, e ne ha preferito uno. Questo che cosa vuol dire? Che anche voi dovete cominciare a fare così. Questo vuol dire che da ora in avanti dovete tirarvela? No, assolutamente no. Ma semplicemente diventare la versione migliore di voi stessi. E rinnovo, ragazzi, il mio invito a prendere i tre pilastri e la trazione, perché è importante capire qual è la base per diventare un uomo di alto valore, che cosa vogliono le donne, che cosa cercano le donne soprattutto. le donne di alto valore, ok? Più lavorate su questi tre pilastri, più troverete donne di alto valore. Perché le attirerete? Si chiama attrazione apposta, ok? Attrazione X. Non è legge da attrazione, ragazze, non c'entra niente, ma semplicemente è che avete il SAR attivato, il sistema di attivazione reticolare. Come ho citato prima, se cominciate ad alzare il vostro livello, cominciate a lavorare sui vostri obiettivi, lavorare sulla crescere la vostra vita, migliorare la vostra vita, quindi diventare l'uomo che una donna di valore vuole e vuole sostenere, perché vuole affiancarsi a quella persona, e c'è da lavorare molto, ok? E se, Filippo, in questo momento tu stai frequentando donne di basso valore, mi dispiace per te, ma sei tu di basso valore.